E' una squadra, posso dire un gruppo unito che mi aiutano tanto, soprattutto i più vecchi, per esempio Muscardelli, che ci danno tanto. Sono contento di essere in un gruppo così, e il Mist mi aiuta tanto. Secondo me può vincere il campionato, perché abbiamo tutto, la qualità fisicamente, vedete ora che il prof si ha fatto correre tanto, c'è un gruppo che secondo me può andare fino alla fine. Il giocatore che mi piaceva qua in Italia è Pirlo, il suo muore di giocare. Grande giocatore. Unico, posso dire.